Di nuovo in diretta insieme a Angelo Ciocca, Lega Nord e Stefano Buffani, Movimento 5 Stelle, Regione Lombardia e la nostra redazione ci ha portato il comunicato ufficiale di infrastrutture lombarde che fa rimanimento a quanto accaduto nella giornata di oggi e il presidente della società dichiara di essere convinto che tutti i dipendenti coinvolgli possano dimostrare la propria estranetà ai fatti contestati. Conferma di aver già provveduto a convocare il Consiglio di Gestione per l'assunzione di provvedimenti a garanzia della continuità aziendale, ovvero quello che diceva prima Ciocca, che non ci siano ritardi nella realizzazione nel percorso a opere connesse a Expo 2015 che non debbano subire ritardi. Poi fa riferimento questo comunicato, è una cosa invece che diceva Buffani, vediamo se ci si ritrova. Peraltro ricorda il direttore generale che è arrestato, aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico e da dirigente della società sin dallo scorso mese di gennaio. I fatti contestati riguardano il periodo 2008-2012 e quindi precedente al rinnovo degli organi societari avvenuto nel mese di giugno dello scorso anno. Infrastrutture lombarde confide una rapida conclusione eccetera eccetera. Quindi come diceva lei, riparto da Nebo Fagno, insomma vecchia storia, c'è un nuovo organo, non dovrebbe succedere niente con tutto il rispetto, però lei dice se non cambiano i meccanismi… Non solo, io ci tengo a sottolineare, le nomine della politica sono state nei consigli di sorveglianza e consigli di gestione, ma il direttore generale non si è dimesso a giugno 2013, quindi va bene giocare con le parole ma non siamo proprio polli. Il tema è sfidare Expo, ripeto, noi lavoriamo nei contenuti, però ricordiamoci che noi abbiamo un mandato politico chiaro, io sono a controllare, siamo in opposizione, noi non siamo una finta opposizione, ma lavoriamo perché sappiamo che nella società moderna l'opposizione serve, ha un suo ruolo fondamentale, motivo per il quale, ripeto, abbiamo fatto tutta una serie di controlli su questo tema ed è chiaro che noi andiamo con i guanti di velluto quando non siamo certi, però quando troviamo qualcosa che non va non guardiamo in faccia nessuno, perché insomma o cambiamo seriamente oppure è un problema. Io ci tengo a ricordare, e qui vorrei chiudere questa parte, diciamo che non più tardi di un paio di settimane fa il Presidente Maroni insieme a Lega e NCD stavano presentando Rognoni come subcommissario all'Expo, all'Expo S.P.A. per rappresentare gli interessi della Regione. Io questo lo vorrei ricordare, noi l'avamo segnalato immediatamente che era una cosa che non condividevamo, una persona che ha un'indagine in corso su un appalto con il nesso alla piastra di Expo, noi per trovare degli equilibri politici lo candidiamo subcommissario, e beh signori, secondo me questo non è un cambio di rotta, e quindi diamo ancora tempo a Maroni, bene, ora si ricambia un'altra volta, non sappiamo più come dirlo. Bilancio in Regione Lombardia, un compleanno fresco fresco, due giorni fa, allora abbiamo più volte sentito in questi due giorni il 18 dell'anniversario, ma anche ieri, le dichiarazioni di Maroni, le cose fatte, e io ritornerei su questo tema con un controbilancio, un controbilancio che ci propone il capogruppo del PB Enrico Brambilla, e fa riferimento sempre 365 giorni, ma ovviamente da un altro punto di vista, poi di questo andremo a discutere. Sì, sono passati 365 giorni, ci chiediamo, la giunta Formigoni è caduta travolta da una serie di scandali, in particolar modo sul sistema sanitario, ricordiamo tutti quello che è successo a San Raffaele, alla Maugeri, a Santa Rita, e chiediamo cosa è stato fatto, quali garanzie abbiamo nel frattempo che tutto ciò non si possa ripetere, cioè quali riforme sono state introdotte nel sistema sanitario Lombardo per avere maggiori garanzie, migliori controlli ed una migliore qualità? La risposta è che ad oggi tutto è rimasto invariato e la riforma del sistema sanitario Lombardo ancora è ferma. Sui trasporti dovevano essere fatte le gare per assegnare il trasporto pubblico locale, dovevano essere costituite delle agenzie, questo permetterebbe di migliorare il servizio facendo diminuire i costi, ad oggi di gara non è stata fatta nemmeno una. Sulla casa, anche qui, doveva partire la riforma del sistema delle haler, per ora sono stati soltanto cambiati i vertici, ma sotto tutto è rimasto ancora invariato. Ecco, su questi tre temi noi sfidiamo Maroni a portare rapidamente in consiglio dei progetti di legge. Noi abbiamo pronte le nostre proposte e su questo ci confronteremo. Alla nostra redazione, grazie anche Enrico Brambilla, questo è il controbilancio di un anno di regione e qui abbiamo rappresentanti della maggioranza e un'altra parte dell'opposizione, Movimento 5 Stelle. Partiamo da ciò che poi ci interagiamo e cerchiamo di capire come lo interpretate, questo controbilancio, cosa vogliamo dire ai nostri ascoltatori? Io sono convinto che ci sia molto da fare, siamo convinti che ci sia molto da fare e abbiamo la volontà di fare. Oggi, come primo elemento, 365 giorni di un amministratore regionale, il primo elemento del quale io ne vado fiero è che la regione Lombardia, al contrario di tutti gli altri clienti pubblici, non ha aumentato nessun tipo di pressione fiscale. Quindi, in un momento dove il governo taglia i trasferimenti, in un momento dove purtroppo le aziende chiudono e quindi le entrate di regione Lombardia diminuiscono, perché diminuiscono le entrate dei cittadini e le entrate delle famiglie, la regione Lombardia e su input di Roberto Maroni ha ottenuto un risultato che è assolutamente fondamentale, quello di dire che io non voglio aumentare la pressione della tassazione ai miei cittadini e questo non è un risultato da poco. Io vedo amministratori locali che purtroppo continuano a legnare come dei matti, vedo il Comune di Milano sulla pressione fiscale, sull'aumentare ogni tipo di cosa. E quindi questo è un elemento che ci tengo a sottolineare. Dopodiché potremmo parlare dei 40 milioni di euro messi sulla riduzione dei ticket, potremmo parlare del percorso per togliere il bollo almeno dei motorini, è un primo segnale concreto, potremmo parlare della legge approvata con una limità di contrasto al gioco d'azzardo, potremmo parlare della legge sulla... Quello che non si è fatto, nel senso fatto ma non applicato, che diceva Brambilla, sono questioni di temi tecnici. Brambilla tocca tre temi, dice sanità, trasporti, casa. Allora sulla casa penso che la situazione che è conosciuta oramai da tutti è una situazione drammatica, cioè la situazione che ha evitato la giunta Maroni è una situazione esplosiva e quindi pensare oggi di poter correre ancora prima di mettere a posto la situazione esplosiva sarebbe incosciente. Quindi la prima operazione che ha fatto il Presidente Maroni è 1. Ridimensionare i costi della struttura aller, quindi ridurre il numero delle aller, ridurre il numero dei presidenti, ridurre il numero di elettori generali, togliere i consigli di amministrazione, quindi questo è un segnale concreto. Razionalizzare quindi le alle a Lombardia e è logico che adesso bisogna fare un progetto di rilancio perché bisogna chiudere una serie di buchi che sono stati ai meri di tanti. Quindi è un tema assolutamente importante, si stanno gettando le basi, le fondazioni per poter costruire un edificio importante, ma è logico che vogliamo costruire un edificio non visibile ai cittadini per guadagnare simpatia, ma vogliamo costruire un edificio solido. L'edificio solido si costruisce su basi altrettanto solidi, quindi il primo compito magari si vede meno è quello di fare le fondazioni solide, le fondazioni magari non sono visibili, ma dalle fondazioni si arriverà appunto a costruire anche il resto. La stessa cosa è sui trasporti. Ecco, sui trasporti ci torniamo dopo il GR perché volevo sentire su questa prima parte anche Buffagno e poi tanto i riferimenti sono tanti, ci torniamo dopo il GR. Prego Buffagno. Sì, io partirei chiedendo una correzione al Presidente, spero non si tratti di partire dalle fondazioni ma dalle fondamenta, tanto per cominciare perché non vorrei che fondazioni sono un tema che mi fa preoccupare. Detto questo, allora, nel non aumento della pressione fiscale il Presidente Maroni si era candidato con un altro tipo di impegno, insomma, aveva venduto il 75% delle tasse, l'abolizione del bollo, va bene, quinquennale, così mi ha risposto, quindi vedremo. Per quanto riguarda, partiamo dal tema casa, la situazione è esplosiva, però io non mi sento di difendere quello che ha detto Brambilla, per un motivo semplice che noi abbiamo detto anche in aula. Allora, il PD faceva delle nomine nei collegi sindacali che sono l'organo di controllo degli enti, al pari della maggioranza, non è possibile che delle società che avevano un buco di 345 milioni, collegi sindacali dichiaravano che era tutto in regola. Questo è proprio il male della politica, ovvero le nomine fatte su riconoscimento partitocratico e non meritocratico che mettono un coperchio a tutto questo sistema marcio. È chiaro che poi, continuando a posticipare e mandando in là il problema, poi diventa sempre più grosso il buco. Quindi questo è un errore. A noi questo tema lo abbiamo trattato anche in consiglio e non guardiamo in faccia a nessuno, perché se bisogna cambiare bisogna guardare tutti insieme i problemi. Per quanto riguarda la sanità ci sarebbe da parlare, credo ne parleremo dopo il GR, mi è perso di capire. Per quanto riguarda i trasporti è una cosa rapida. Il PD vuole frammentare l'offerta del trasporto locale. Io non sono d'accordo, perché oggi abbiamo preso una direzione con una fusione FS-Trenord che non è ancora riuscita, perché non hanno ancora implementato le due strutture all'interno della società. Oggi Moretti chiede di diventare responsabile numero uno di Trenord per poi andare a fare una fusione con la TM, quando non siamo neanche stati in grado ad oggi di fare un'integrazione tariffaria. Quindi noi qua giochiamo a fare i manager con le aziende pubbliche per dare nomine, ma non riusciamo a dare i servizi ai cittadini. Noi vogliamo cambiare registro. Le faccio rispondere, devo dare la linea alla regia. Era solo una precisazione sul termine fondazione. In edilizia e in architettura le fondazioni sono quelle parti della struttura e dell'edificio che svolge il compito di trasmettere i carichi della struttura in elevazione verso il terreno. Quindi quello era il compito della fondazione e il significato del termine. Allora, la linea alla regia e subito la voce a Filippo Colombo. Sì, grazie Laura. Ne state parlando a pane al pane. Riassumiamo allora la notizia, i fatti per come li conosciamo fino a questo momento. Ovvero l'ex direttore generale di infrastrutture lombarde Antonio Giulio Rognoni e il capo dell'ufficio gare e appalti della infrastruttura lombarde Società per Azioni Pierpaolo Perez sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Milano. L'accusa è di associazione a delinquere, turbativa d'asta, truffa alla regione. È falso. Ai domiciliari altre sei persone. Al centro dell'indagine ci sono affidamenti esterni di incarichi come consulenze legali e controlli sugli appalti che sarebbero stati conferiti in modo illecito. Rognoni, che si è dimesso nei mesi scorsi, risultava già indagato per turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta su un appalto relativo all'Expo 2015, quello sulla cosiddetta piastra dove deve essere costruita la piattaforma per l'esposizione universale. Il Movimento 5 Stelle chiede ora il blocco di tutte le opere in via cautelativa in mano a infrastrutture lombarde e sollecita il Presidente della Regione Maroni a venire in Consiglio regionale a relazionare sulla situazione. Anche il Partito Democratico chiede che il Presidente riferisca in aula. Nel corso dell'incontro tra Lanci, l'Associazione dei Comuni Italiani e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Renzi ha assicurato che verrà al più presto a Milano per parlare alla città e per parlare dell'Expo del 2015, lo ha riferito poco fa il Sindaco Giuliano Pisapia. Passiamo alla cronaca. È caccia al piromane a Ponte Nossa in Valle Seriano in provincia di Bergamo dove oggi, per la terza volta consecutiva nel giro di un mese, qualcuno ha piccato un incendio sul Monte Froll. Le fiamme sono state appiccate in tre diversi punti contemporaneamente e poi hanno interessato un vasto territorio. Fuoco e fumo sono stati notati sia vicino al Ponte del Costone sia in due punti sul versante della Valle del Riso. Sul posto i vigili del fuoco, un elicottero antincendio della Regione e gli uomini dell'antincendio boschivo, oltre ai carabinieri che si stanno occupando delle indagini. È tutto per ora con gli aggiornamenti. Laura a te di nuovo la linea. Grazie, grazie a Filippo Colombo. Torniamo con un'altra notizia di cronaca prima di dare la voce ai miei ospiti. Riguarda quello che è stato oggi la protesta dei taxisti. Oggi ricordiamo blocco diesel Euro 3, ma l'avevamo già anticipato per il discorso delle polveri, e taxi fermi. Abbiamo un comunicato che ci porta anche a parlare di una delegazione del coordinamento delle organizzazioni di categoria dei tassisti che è stata ricevuta dal prefetto di Milano, Tronca. Ne parliamo con Pietro Gagliardi, appunto delegato settore taxi Unione Artigiana. Buonasera Gagliardi. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, com'è andato questo incontro col prefetto? Ma direi che è andato bene, nel senso che il prefetto ci ha assicurato piena disponibilità ad affrontare il problema con un collegamento sinergico con tutti gli enti locali, le forze dell'ordine e rappresentanti di categoria. Nello spirito di immaginare che da Milano possa partire un progetto finalizzato al miglioramento del servizio e la tutela della legalità. Certo, questo ricordiamo, voi avete dato delle indicazioni precise anche che comunque erano legate alle norme di legge, giusto, erano già definite. Proprio in questo spirito è accettata la consapevolezza dell'importanza del servizio pubblico, tenendo conto naturalmente delle innovazioni tecnologiche, ci ha spinto a chiedere al prefetto appunto di sollecitare una richiesta di intervento del governo al fine di definire i criteri attuativi urgenti per l'applicazione del 91-92 alla legge 4. Certo. Ecco, il servizio è tuttora sospeso, vero? Fino alle 22 io avevo come notizia. Il servizio è tuttora sospeso fino alle 22 e alle 22 riprenderà sospeso così come è stato autorizzato dalla Commissione di Garanzia, quindi alle 22 il servizio riprenderà regolarmente. Ecco, questo era stato annunciato e non avete al momento altre mobilitazioni? State a vedere insomma quello che il prefetto farà prima di agire in altre direzioni, giusto? No, assolutamente, anzi, di direi che questo di oggi è stato un intervento, un importante incontro, molto importante e molto proficuo. Siamo molto soddisfatti dell'impegno che il prefetto ha preso nei vostri confronti. Bene, vi daremo voci quindi quando ci saranno altre novità. Speriamo, come lei sta dicendo, tutte positive. Buon lavoro e grazie Cagliardi. Grazie a lei, buona serata. Buona serata. Ecco, allora, ripartiamo, ripartiamo, no, le fondamenta le ha, abbiamo querito le fondamenta e le fondazioni. La fondazione Maugeri in regione Lombardia, ora San Raffaele, non sono delle belle premesse per partire sul problema a casa, questo era il concetto, insomma io partirei. Sanità, dicevamo. Usiamo gli esami di architettura delle fondazioni, insomma, fondazione inteso come termine edile, edile, edile. Sanità. Sanità, dicevano, dopo la pubblicità. Ciocca o come volete? Come volete, nel senso sanità era sicuramente una grande sfida, cioè io non sono convinto che... Si può fare di più? Io sono convinto, innanzitutto, che abbiamo una grande sanità in Lombardia fatta dalle eccellenze delle persone che vi lavorano, quindi non c'è un merito politico. Quando qualcuno vuol targare nel bene o nel male una sanità, sanità è un bene prezioso e è fatto dalle persone, dal primo all'ultimo che lavora dentro all'ospedale e quindi questo non va assolutamente evitato di sottolinearlo in quanto da altre parti del paese vengono in Lombardia a farsi curare. Quindi se da altre parti del paese vengono a farsi curare è perché sicuramente abbiamo persone capaci nella nostra sanità. Ma non è il punto d'arrivo questo del ragionamento, questo deve essere il punto di partenza perché poi bisogna vedere anche purtroppo le cose che non vanno. Vogliamo dire cosa non va? Sicuramente il fatto che un Lombardo debba pagare una tassa per farsi curare, cioè il ticket è una tassa ingiusta. Un territorio che paga 108 miliardi di euro di tasse pubbliche allo Stato non può continuare a pagare per ricevere servizi. Le tasse devono servire per ricevere servizi gratuiti, quindi il primo elemento che nella sanità Lombarda non va è l'esigenza di arrivare a togliere il ticket sanitario. L'altro tema fondamentale è quello di ridurre le liste d'attesa, i tempi di risposta, lo sappiamo benissimo. Terzo sicuramente un'attività di controllo e di responsabilizzazione di quei soggetti che ancora oggi esistono, che lavorano nel pubblico senza avere l'amore per quello che fanno. Siccome il servizio pubblico è un servizio importante, io penso che uno che decide di lavorare per il pubblico deve metterci qualcosa in più, deve essere innamorato di quello che fa e quindi il percorso esiste. Io mi auguro che anche con le opposizioni si possa arrivare a fare una riforma del sistema sanitario, una riforma che tenga presente i grandi risultati che ci sono ottenuti, i grandi risultati che oggi abbiamo, ma che si tenga presente come correggere quei tre elementi. Io mi migliorati. A partire dal fatto che un governo non può continuare a tagliare i trasferimenti sulla sanità in Lombardia, perché sul 2014 il governo taglia 300 milioni di euro sul sistema sanitario Lombardo. E allora i nostri cittadini continuano a pagare tasse, continuano a vedere aumentare la pressione fiscale, si chiedono perché la Lombardia, il territorio Lombardo, la sanità Lombarda deve subire sofferenze per scelte di tagli da parte del governo. del governo centrale. Le do assoluto la parola a Buffani, questa è la voce di Angelo Ciocca a Lega Nord. Sentiamo Grazia e poi Buffani. Grazia, buonasera. Buonasera signora Costa, stasera sono particolarmente felice perché finalmente vedo Angelo Costa. Ciocca, ciocca, ciocca. Ciocca, ho fatto un bestizio di quello. Tra il mio e il suo, sempre per Cicci, Ciccosta. Sì, 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 perché io ho una cordiale antipatia per la Lega, però Angelo Ciocca ho veramente una simpatia perché è una persona equilibrata, sobria, elegante sempre. Tant'è che ho scritto a Salvini dicendo fatti dare le lezioni di buon tondo a Angelo Ciocca. Non mi metta in difficoltà Ciocca. Ma di dov'è? Di dov'è signora? Di dov'è di Milano? Di Milano. Di Milano, zona 4. Milano, zona 4. Senta, mi dica una parolina carina anche per Buffani che... Non lo conosco, la prossima volta farò tutto sul Movimento 5 Stelle. Perfetto. Adesso volevo dire a Ciocca. Sì. Ciocca, lei è pavese. Di conseguenza, la certosa, perché non la fate servire adeguatamente? Perché uno o arriva in macchina in un posteggio dimenticato da Dio e dagli uomini e la certosa è un valore incredibile, oppure non ci sono mezzi di trasporto. È peccato che si sta ammalorando, sta andando veramente a remengo. e questo mi scuso per essere andata fuori... No, no, ma le rispondiamo. Ovviamente... È la prima volta che mi capita a Ciocca. Eh, non ce la potevamo perdere. Ecco, sicuramente. Da antiludista, va bene. Va bene, grazie, grazie, buona serata. Allora, Ciocca, le faccio rispondere tra un attimo su questa cosa. Prima sentiamo Buffani sulla salità. Grazie, non ci dimenticheremo. Appena darò la parola a Ciocca, le risponderà. Prego, Buffani. Allora, per la sanità, il tema del ticket sanitario condivido l'obiettivo che ha evidenziato il collega Ciocca, cioè del toglierlo, perché chiaramente i servizi essenziali vengono pagati con la tassazione. Il problema è che quando tu orienti l'intero sistema sanitario verso l'utilizzo di strutture private che devono comunque fare dei profitti nel loro operare, è evidente che tu stai dando un indirizzo che va a creare maggior costi. Questo è innegabile. Al di là dell'idea che il privato poi liberalizza e rende tutto perfetto, però sappiamo tutti che il privato guadagna facendo attività sanitaria e questo è un problema. Quindi qui bisogna cambiare proprio l'orientamento. Riportare la sanità internamente in tema pubblico. Per quanto riguarda le liste d'attesa, il problema si collega sempre su quello. Ovvero se lei va in una struttura accreditata, se chiede la visita come ente pubblico, gli danno la visita fra sei mesi. Per loro dicono se vuole c'è la visita privata, gliela facciamo domani mattina. Questo è il problema. Cioè tu stai dando l'opportunità degli enti di infilarsi nel sistema della sanità che dovrebbe essere dalla nostra visione di tipo pubblico. Quindi i margini per migliorare ci sono, ma bisogna cambiare la visione. Per quanto riguarda i tagli ha totalmente ragione, nel senso che ci sono stati dei tagli. Quindi questo però non giustifica, ad esempio, che grazie a una legge attualmente ancora in vigore, anche se definanziata in regione Lombardia, come la legge famosa DACO, sono stati nell'arco di tre anni buttati o perlomeno dati 200 milioni di euro in maniera discutibile. Tant'è che ci sono delle dagini in corso perché venivano usati dei soldi pubblici in maniera discrezionale. Quindi noi paghiamo degli errori del passato. Allora o si ha la forza veramente di dare un colpo e cambiare, oppure ci si è arrabatta per sopravvivere. Però rimane, lei dice, uno strascico che non permette di fare una roba fatta bene. Assolutamente. Certo. Allora, sì, riusciamo ancora a restare su questi temi prima della pubblicità e rispondiamo anche a Grazia. Ma intanto ringrazio Grazia e scusate il visticcio di parole per due motivi. Prima perché... Perché le ha fatti i complimenti... Gli apprezzamenti vi dico aiutano perché dopo una giornata difficile e pesante gli apprezzamenti Sì, oggi è stato veramente pesante. Dei cittadini sono piacevoli perché per gente come sottoscritto e penso di parlare anche a nome del collega Buffani che ci mettono l'anima in quello che fanno poter ricevere apprezzamenti aiuta sicuramente a continuare nell'impegno. Detto questo la ringrazio anche perché mi dà l'occasione di sottolineare effettivamente che abbiamo un patrimonio importantissimo come il monumento alla Certosa di Pavia che in altre parti d'Europa monumenti di questa portata sono una ricchezza, noi invece rischiamo di perderlo e questo anche martedì in aula abbiamo approvato una mozione con i colleghi pavesi, io ho chiesto un emendamento a quella mozione proprio per inserire un sollecito, un'azione proprio di pressi nel confronto del governo per recuperare quelle risorse indispensabili per manutenzionare il bene e per non perdere un patrimonio importante come la Certosa, ieri c'è stata la visita dei vigili del fuoco alla Certosa di Pavia per verificare la stabilità, la situazione di pericolo del monumento, quindi capite che non è accettabile vista anche la grande opportunità e ci auguriamo che marci in questa direzione di Expo che i visitatori che arriveranno in Lombardia non potranno essere accolti anche da un patrimonio storico, artistico, culturale come la Certosa di Pavia che a prescindere dall'Expo va considerata. Guardate, noi continuiamo a pensare molte volte alla fabbrica intesa come giustamente quella che produce, noi oltre a quelle fabbriche che dobbiamo assolutamente recuperare, quelle manifatturiere che purtroppo abbiamo abbandonato per scelte della politica sbagliate, oltre alle fabbriche manifatturiere dobbiamo recuperare la fabbrica del turismo, la fabbrica del turismo è fatta grazie a queste ricchezze e questi patrimoni che fortunatamente qualcuno con sacrificio ha costruito prima di noi, perché dietro a quei patrimoni ci sta il cuore, il sacrificio, l'impegno, la genialità di persone che ci hanno preceduto. Quella ricchezza è una ricchezza che noi dobbiamo poter sfruttare e mettere a reddito. Allora, ieri e l'altro ieri abbiamo avuto la possibilità, grazie a Sonia Bedeschi e agli protagonisti, di vedere l'azione in aula del Movimento 5 Stelle con delle strane bombolette. Allora, avevamo diverse interviste, ma oggi volevo tornare almeno brevemente su questo tema, ma mi dicono dalla regia che abbiamo un altro ascoltatore, per cui tra un attimo ne parliamo. Pietro, buonasera. Buonasera, un saluto ai suoi ospiti e soprattutto al rappresentante del Movimento 5 Stelle. Bene, grazie. Al signor Ciocca volevo ricordargli che ieri un suo collega ha detto che lo Stato italiano costa ai Lombardi 6.000 euro cittadino, quelli che avete rubato voi quando è che ce li ridate? Poi, un'altra cosa, al governo, oltre che criticare cosa avete fatto in 20 anni di governo con Berlusconi, solo porcate e basta, accise su benzina, Equitalia, è un regalo vostro, andate a farvi fottere. Bene, allora, questa è la voce di Pietro, libero... Mi auguro che il Movimento 5 Stelle... Ha bilanciato l'intervento di Grazia, ha visto Ciocca? Non manca mai niente. Sì, no, però Grazia ha avuto Grazia, anche nello stile, pur sottolineando che era un antileghista, e comunque ha avuto Grazia nel porsi. Questo esponente 5 Stelle si commenta da solo, ecco, nel porsi. Quindi, dopodiché, io penso che non è che andiamo lontano con un'impostazione di questo tipo. Io penso che se vogliamo mettere mano e lasciare ai nostri figli, visto che noi abbiamo ereditato un paese distrutto, un paese che possa funzionare nella direzione giusta, non possiamo porci come nei toni di questa telefonata. Ecco, dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, tirare una riga, capire che ci devono essere delle responsabilità anche in politica, purtroppo non c'è stata, è una delle regole che secondo me bisognerebbe convincere la politica romana ad inserire nella riforma elettorale, è il termine responsabilità. Questo è un tema che nessuna forza politica sta tirando fuori se non la lega. Io dico, siamo in grado di, oltre a ridurre i costi della politica, a iniziare a omettere un requisito fondamentale che è la responsabilità dell'amministratore pubblico e della politica, e poi dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche e cambiare questo paese che purtroppo io, da giovane amministratore, da giovane politico, definitemi come meglio credete, ho ereditato. Ecco, quindi come l'ha ereditato il collega Buffani, seppur da punti di vista diversa, abbiamo un obiettivo, quello di sanare la situazione difficile che abbiamo ereditato. Allora, ho la pubblicità, tra poco rientreremo di nuovo in diretta e parleremo di questi vitalizi, non li vuole nessuno, ma non è vero. A tra poco. Pane al pane. Ed eccoci di nuovo in diretta, abbiamo in collegamento Gagliani Marzio, segretario di Adiconsum, Brianza e Lecco. Buonasera. Buonasera. Buonasera Gagliani. Allora, io ho davanti a me una lettera che è indirizzata all'attenzione del dottor Matteo Renzi, presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. Oggetto, segnalazione di eventuale contributo a favore della nazione. Abbiamo deciso di dare voce a questa lettera attraverso lei che peraltro porta anche, oltre che la sua firma, un detto popolare. No, roba del Comune, roba di nessun, o più o meno, perché io non sono brava. Prego. Pavia si direbbe roba del Comune, le roba da nessun. Ecco, esattamente. Detto meglio è dal gioco. Qualcuno l'ha conosciuto bene. Sì, sì. Adagio Brianzolo. E Pavese. E lei continua a leggere, io ho anche detto che vogliamo sfatare. Esattamente, esattamente, esattamente. Allora, di cosa si tratta? È semplice la cosa. 22 anni fa, in quel di Seregno, provincia di Montsebrianza, l'Inps, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha acquistato una ex clinica, una clinica, un ex ospedale, esattamente di 16.000 metri cubi, 3.000 metri quadrati di volumetria, con giardino annesso e tutto con seguito. Tal San Maria, giusto? Santa Maria, ex clinica Santa Maria, acquistata dall'Inps, esattamente 22 anni fa. Ad oggi questo stabile è ancora abbandonato, cioè proprio in stato di abbandono totale. L'Inps non c'è mai entrata, perché avrebbe dovuto entrare con le sedi decentrate, cioè mettere dentro in questo stabile le quattro sedi periferiche, oltre a quella di Monza, cioè Cesano Maderno, Seregno, Carate ed Esio, collocarli dentro in questo stabile per gli uffici delle zone periferiche. Ma non c'è mai entrata? Non è mai stato effettuato questo trasloco e da 22 anni è stato abbandono. Quindi cosa succede? L'Inps ad oggi, cioè da 22 anni a questa parte, paga 4 sedi periferiche in giro, nelle varie città che ho detto, Seregno, Carate, Cesano Maderno e Esio, per 500 mila euro all'anno. In più paga l'ICI dal 92, dal 91 al comune di Seregno, al comune di Seregno e paga esattamente 14 mila euro all'anno per il ponteggio che sostiene la facciata perché sta crollando. Immagino che voi, Gagliani, abbiate cercato di rivolgervi prima di questa lettera a Matteo Renzi anche su territorio. Allora, abbiamo fatto di ogni, come si dice, vulgarmente. No, no, siccome c'erano qui due rappresentanti, non so che funzione potrebbe essere. Allora, ci sono due interrogazioni alla Camera, due interrogazioni al Senato, interrogazioni in provincia, in regione. Cioè, la parte politica l'abbiamo toccata tutta. Io le volevo chiedere di segnarsi questa mail, o segnarsi poi la mail che le dà la nostra regia, per scrivere anche al Movimento 5 Stelle, oggi in regione. Ieri non c'era, oggi c'è, giusto, Buffani, mi diceva di provare a segnalare questa realtà, con tanto di dettaglio di sprechi, come lei ha sottolineato. Potrei mandare quintali di carta, di documenti cartati. No, 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 non ci faccia paura, basta una mail con il contenuto che ha appena detto. Le dico di più, sono venuti dalla televisione svizzera e olandese a riprendere. No, in regione Lombardia, a Buffani, stiamo dicendo. Sì, sì, questo lo manderemo. Io ho un buon rapporto, ho fatto parecchi incontri in regione Lombardia con i consiglieri regionali. Bene. Su questo problema. Però non col Movimento 5 Stelle. No, col Movimento 5 Stelle ex novo, diciamo. Ecco, Buffani, che qui di fianco a me faceva questa proposta. Gagliani, posso dare ancora 30 secondi, prego. Allora, il discorso che abbiamo lanciato con adesso Renzi, diciamo, era già stato aperto con Monti, non è che siamo... Certo. Ogni tanto cambiamo il nome della cosa. Sì. Sostanzialmente però il contenuto non cambia. Esatto. Anche perché abbiamo fatto l'incontro ufficiale presso l'Inps regionale con il dottor Quattrone, abbiamo fatto l'incontro nazionale con l'IS nazionale, non c'era il direttore... c'era un direttore generale. La cosa buffa, ecco, quello che poi ti viene un po' da sorridere amaramente, è il fatto che ti danno ragione. Cioè dicono, ah, lei ha perfettamente ragione. Almeno quello, però... Tu devi dire in questo modo perché mi sento un po' preso per i fornelli. Esatto, esatto, esatto. Ma oltre alla ragione, che qualcuno potrebbe dire la ragione, si dà i matti, qual è il motivo per il quale non si sblocca questa situazione? Che cosa le dicono? Il motivo che non si sblocca questa situazione è semplicissimo. Il dottor Quattrone, che è il presidente regionale dell'Inps, dice sostanzialmente questa cosa dopo l'incontro fatto, che non c'è una legge nazionale che svincoli la vendita dello stabile. L'affitto o il comodato d'uso, lui non può darlo in nessun modo. Lui mi ha detto esplicitamente, se ci fosse una legge che mi consente di alienare un patrimonio che io non utilizzerò mai più, lo faccio domani mattina, ma ad oggi non lo posso fare, perché queste sono le condizioni legislative che non me lo consentono. E quindi da 22 anni loro pagano le sedi periferiche in giro, pagano da qualche, da 12 anni il ponteggio e continuano a pagare la vecchia Imi, l'ICI, quello che sia il comune. Gialiani, devo purtroppo per forza chiudere, però io lancio questo suo appello che lei manda Renzi, abbiamo dato voce anche ai consiglieri regionali. e Buffagni mi sta riconfermando di la invita a parlarne direttamente con il Movimento 5 Stelle che è in Regione Lombardia. Poi la nostra Valentina Gamna le farà avere tutto, va bene? Allora io vi saluto e vi ringrazio e vi ringrazio soprattutto per averci dato spazio come associazione. Assolutamente, prego. Gialiani, grazie perché... E anche ciò che mi sembra di capire si interesserà. Io con piacere ringrazio perché veniamo a conoscenza di una cosa che si dice con una parola vergogna, vergognosa. Abbastanza imbarazzante, certo. Tenete presente che per raggiungere i consiglieri regionali abbiamo un'email che è pubblica, che è fatta dal nome di battesimo, punto cognome, chiocciola, consiglio, punto, regione, punto, lombardia, punto, it. Purtroppo non l'abbiamo pensato noi, è molto articolare, ma basta il nome di battesimo. Quindi in questo caso angelo.ciocca, Stefano Buffagni, quindi angelo.ciocca, oppure stefano.buffagni, chiocciola, consiglio, punto, regione, punto, lombardia, Beh, non è così difficile, dai. Consiglio regionale, consiglio.regione.lombardia, allora non la richiamiamo, Gagliani, si segui queste due mail e mi raccomando, perché poi li rinvito loro e invito anche lei a raccontarci come è andata a finire, mi raccomando, grazie. Io vi saluto, vi ringrazio e buonasera. Grazie. Un'ansa che ci ha portato alla nostra redazione, che ci segue in radiovisione, aveva visto questo passaggio di Veline con Filippo Colombo, allora, arresti di oggi, Rognoni, 66 capi di imputazione, l'emissionario della società interamente regionale regionale Mardia, ok, finito oggi in caccia, eccolo, vengono contestate dalla procura di Milano e nell'ordinanza del GIP 66 capi di imputazione, che vanno dall'associazione per delinquere alla turbativa d'asta, alla truffa all'amministrazione regionale, fino al falso. Questa è l'ultima assa che riguarda i capi d'accusa, io su questi capi d'accusa torno al comunicato con cui ho aperto, che ha rilasciato Maroni, spero Rognoni dimostra le stranità dei fatti, ce lo auguriamo tutti, però è sicuramente una cosa pesante e non credo ci sia stato questo polverone che si possa basare nel nulla, poi magari verremo smentiti, garantista, diceva Bufani prima, però insomma è tanta roba, 66 capi di imputazione di questa levatura. Direi di sì, ma noi lo teniamo da tanto, quindi insomma per noi non è una novità, ripeto, io sono garantista perché mi sembra doveroso, però diciamo che quando iniziano a essere così tanti capi d'accusa a cui dobbiamo aggiungere quelli dell'altra inchiesta, adesso o sono tutti pazzi alla Procura di Milano, cosa che dubito, oppure qualcosa che non va, c'è sicuramente. Certo, allora dovevamo accennato, abbiamo pochi minuti, lo sintetizziamo perché davvero ne abbiamo parlato, e comunque sia ieri che l'altro ieri, di questo spray contro la casta, Movimento 5 Stelle per i vitalizi, abbiamo chiarito tecnicamente che gli attuali consiglieri non prenderanno questo vitalizio perché questo passaggio c'è stato, lo confermo a Ciocca, no? Conferma ad entrambi. C'è stata un'abrogazione, io di questo ne vado fiero perché penso che nella storia del Paese Italia pochi siano ancora ad oggi politici che hanno votato di togliersi, giustamente, dei privilegi fuori da ogni logica. Però chi prende 10, ieri ci dicevano, chi ha dato 10 prende 100 ed è questo su cui voi vorreste una retroattività. Pensate di poterci riuscire che questo che è il problema vero. Per chi ha maturato il vitalizio, sì, io ho la fortuna di non averlo maturato e quindi è un problema che non riguarda. Non riguarda, però chi l'ha maturato dovrebbe... Ma io penso, adesso poi Buffani lo spiegherà, penso che l'idea giusta sia quella appunto che mi diceva anche durante la pausa Buffani. Cioè uno deve ricevere per quello che ha pagato, non è che può ricevere per quello che hanno pagato gli altri. Come peraltro avviene per tutti i comuni mortali se non vado errando. No, prego. Anzi, c'è qualcuno che ha pagato e non riceverà nemmeno mai perché magari non è arrivata ai termini della pensione che con questa crisi è rimasta a casa e quindi non parlo degli esodati, proprio quelli di un attimo prima degli esodati per cui proprio di quelli spersi nel nulla che magari non riusciranno mai per l'età che hanno a maturare quei 6-7 anni che gli mancano. Prego. Allora, ci tengo a precisare dato che in tanti ci dicevano il 5 Stelle è lì solo a fare le pagliacciate. Noi abbiamo fatto questa operazione per prendere un attimo di visibilità sul tema perché il tavolo di lavoro stava prendendo una deriva che io non condividevo ovvero stava andando su una direzione di un taglio di circa il 10% cioè una farsa un provvedimento diciamo bandiera. Allora noi abbiamo bisogno continueremo a aver bisogno della volontà popolare che anche quando si taglierono il vitalizio ci tengo a ricordarlo il tutto nacque da una proposta che si chiamava Zero Privilegi di una proposta di iniziativa popolare che fu portata in regione grazie alle firme che anche attivisti e attuali diciamo portavoce del Movimento 5 Stelle raccolsero. E qui cittadini cioè ci sta tutta insomma noi sappiamo che quando vogliamo penso che anche lei come cittadino no io ci sto però questa forza popolare ha ottenuto un risultato importantissimo del quale come lei diceva ne sono anche contento e orgoglioso ma in Lombardia non in tutte le regioni d'Italia è quello che mi fa perdonatemi un po' girare le scatole insomma anche da cittadino anche da cittadino non solo da leghista ma perché è un privilegio che è fuori da ogni tempo cioè già non aveva senso negli anni 70 ma oggi come è pensabile che un politico dopo 5 anni maturi il vitalizio che vuol dire la pensione 5 anni di lavoro matura la pensione il problema è che non è solo una pensione appunto io quello che abbiamo voluto fare è riportare il tema all'attenzione perché se noi abbiamo la spinta delle persone che sono fuori che ci danno ancora più forza all'interno sono sicuro che riusciamo a portare le cose sulla direzione che vogliamo noi volevamo l'abrogazione ci sono dei rischi di ricorsi allora abbiamo detto la rimodulazione su base contributiva come dicevi te prima come qualsiasi cittadino sia per chi lo riceve sia per chi ha già maturato il diritto ma non ha ancora l'età perché ci sono un sacco di persone che non hanno ancora i 60 anni ma hanno maturato il diritto noi vogliamo cambiare totalmente questa cosa perché è iniqua e soprattutto è proprio l'esempio della casta tanto discussa ecco secondo noi perfetto abbiamo dato voce anche qui dallo studio di quanto vi avevamo raccontato attraverso le nostre interviste i nostri filmati rispetto a questa iniziativa del Movimento 5 Stelle per riportare l'attualità però poi abbiamo sentito oggi da Ciocca ieri da Brambilla insomma che su questo si è più o meno d'accordo però insomma bisogna non mollare vedremo non mollare esatto non mollare la guardia grazie ai miei ospiti Angelo Ciocca Lega Nord buon lavoro grazie a voi buona serata grazie anche a Stefano Buffani Movimento 5 Stelle sempre Regione Lombardia grazie mille buona serata a voi buon lavoro entrambi per noi invece le notizie dall'Italia e dal mondo e poi di nuovo in diretta per una seconda ora che ci porta a parlare di cultura perché con noi l'assessore di Regione Lombardia Cristina Capellini a tra poco pane al pane in diretta